presentiamo il nuovo modello aria xl macchina refrigerata a 10 spirali che utilizziamo in combinazione con il modello lay to go come soluzione ideale per locazioni pubbliche ovvero per postazioni ad elevati consumi e con grande passaggio di persone le due macchine sono caratterizzate da un'interfaccia utente davvero semplice ed intuitiva e mettono a disposizione dell'utente un portafoglio di bevande davvero senza precedenti grazie al touchscreen da 32 pollici l'utente è guidato nella scelta di bevande golose con l'aggiunta di sciroppi biscottini topping e riesce a essere padrone della bevanda che costruisce bianchi vending il gusto per l'innovazione il gusto dell'innovazione il gusto dell'innovazione sfondo di ricosti